Siamo con Manolo Gatosi, sindaco di Pienza che è come comune patrocinia anche quest'anno questa iniziativa Io non ho dischi, quindi un'iniziativa che vuole sensibilizzare la popolazione sui dischi che possono determinare che possono esserci anche nel nostro territorio. Sì, informare, come diceva anche il responsabile di protezione civile dell'Unione dei Comuni, formare. Quindi non solo dare le informazioni ma cercare anche di istruire i cittadini sulle prime azioni da compiere in caso di necessità, in caso appunto a cui avvenga un evento catastrofico e poi anche quella di appunto diffondere le buone norme su come comportarsi attraverso anche una migliore edificazione delle opere edilizie e quindi anche su come prevenire eventuali danni alle strutture. Per l'altro quest'edizione diciamo che ha come sede Pienza si concentra principalmente sul problema dei terremoti un problema che forse in tanti sentono distanti ma che in realtà è purtroppo presente anche da noi. Certo, come ho detto appunto durante l'intervista abbiamo una fascicoletta, una raccolta sui terremoti piantini avvenuti dal 1500 in poi che un'associazione culturale di Pienza, la rivista La Canonica ha permesso appunto di portare con documentazione anche storica su carta, su stampato e questo certifica come appunto gli eventi sismici purtroppo anche nel nostro territorio siano avvenuti nei vari secoli e abbiano creato numerosi danni alle opere monumentali che abbiamo qui sul nostro territorio, sul nostro comune. Diciamo chiudo con un'ultima domanda, lei come sindaco ritiene quanto sia importante la collaborazione fra i vari enti, fra i vari sindaci, come Unione dei Comuni in un momento soprattutto in cui le distanze appunto dovute dal problema del coronavirus rendono impossibili partecipare ad eventi di piazza? È fondamentale, diciamo l'unione fa la forza, in questo caso vale veramente il detto in quanto più persone di più comuni possono mettere insieme sia le professionalità sia le conoscenze, sia confrontarsi maggiormente sui vari tipi di eventi che possono capitare in territori diversi come il nostro. Quindi un comune che ha più una caratteristica diciamo morfologica di essere sottoposto ad alluvioni ed un altro che ha più la caratteristica di essere colpito da terremoti possono collaborare scambiandosi le informazioni e facendo una sinergia chiaramente utile per la tutela della salute del territorio di tutti i comuni. Antonio Chiantese, responsabile di piazza dell'Associazione pubblica di assistenza di Pienza qui per parlare di questa iniziativa, Ionor Dischio, giunta al quinto anno, o meglio al quinto anno in cui partecipate, un'iniziativa importante che vuole sensibilizzare la popolazione su quelli che possono essere dischi del nostro territorio. Noi giocheremo anche quest'anno come gli altri anni su cose semplici, cose che uno può iniziare a fare a casa prima che avviene l'evento terremoto perché ci sono tante piccole cose che influiscono sui danni che possono venire dopo che molti non ne sono a conoscenza, cose di poco conto come mettere i piatti e tutto l'arredo pesante nelle parti inferiori delle mensole come di appendere i quadri con dei canci chiusi e tante altre piccole cose insegnando poi a chiunque che se succede un terremoto è inutile scappare basta rimanere in casa, mettersi vicino a una parete portante oppure sotto a un arco o sotto un architrave normale di cemento. Sono cose semplici che vanno rispettate perché così si salva la vita di parecchia gente. La maggior parte dei danni che hanno le persone nei terremoti, anche quelli più leggeri, è dovuta a incidenti in casa. Sono cose da poco conto scappare senza mettersi le scarpe non serve a niente perché se dovevi essere danneggiato l'hai già fatto, se scappi senza le scarpe corri il rischio di trovare dei cocci, dei vetri e farti male. Queste sono le cose più semplici e poi andiamo sulle cose più importanti. Quest'anno però sfruttando il discorso online, quindi virtuale, noi presenteremo tutto il territorio di Pienza con delle immagini belle, lo dico poco perché tanto si vede e faremo capire qual è l'importanza di prevenire quello che può succedere perché la prevenzione e il lavoro dell'uomo ha portato avanti questo territorio per anni e noi non dobbiamo fare altro che fargli capire che bisogna continuare così. Se vogliamo lasciare l'ambiente come è ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quanto è importante, soprattutto in un momento in cui non possiamo scendere direttamente in piazza, la collaborazione fra gli altri enti, fra tutti gli enti disposti in tutto il territorio che possono quindi parlare a platea e distanti fra loro? Ma infatti l'importanza di quest'anno è che mentre tu gli altri anni parlavi in una piazza chiusa dove era il cittadino che si avvicinava per chiedere informazioni, tu entri nelle case di più persone possibili, sia attraverso le televisioni che attraverso internet, in modo da avere una cerchia di ascoltatori che è molto molto ampia. Si prevede che addirittura i nostri eventi che saranno pubblicati sulle pagine nazionali possono essere visti in Friuli come in Sicilia e noi possiamo vedere quelle del Friuli e della Sicilia. Quindi questo significa diffondere quanto più possibile il rispetto all'ambiente e l'attenzione a quegli eventi che ci succedono. Perché poi si parla anche di maremoto, perché dici ma io abito in montagna, il maremoto non mi interessa. No, ti interessa perché al mare ci vai pure tu. Quindi devi sapere che quando succede un certo evento col mare si sta per avvicinare un maremoto e noi gli insegniamo come comportarsi. L'alluvione, l'ho detto prima, l'alluvione noi non è che abbiamo questo grande rischio, però abbiamo la Valdichiana a due passi. La Valdorce è limitata solo a quel pezzettino, ma la Valdichiana è piena di rischi. Noi lo sappiamo bene perché abbiamo lavorato per tanto, quindi conosciamo bene quali sono i rischi. Angela Cardini, ingegnere responsabile quindi del Centro Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, oggi per presentare questa iniziativa in un'ordisco patrocinata dal Comune di Pienza, ma che riguarda l'intero territorio, un territorio comunque morfologicamente diverso tra sé, ma che presenta problematiche spesso anche comuni. Sì, come diceva lei prima, il territorio dell'Unione dei Comuni ha caratteristiche molto diversi da una zona all'altra, per cui è predominante magari il rischio sismico su alcune zone, il rischio idraulico, idrogeologico su altre, oppure il rischio già morfologico. Per cui si cerca di avere una gestione unitaria nell'emergenza in modo da, come dicevo anche prima, ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione sia per quanto riguarda il personale dei Comuni, dell'Unione e anche il volontariato che dà un grosso supporto, come si vede anche in questa occasione, in questa occasione di io non rischio, a affrontare l'emergenza e anche come supporto nell'attività di programmazione delle attività che l'Unione dei Comuni come Centro intercomunale fa. Ecco, appunto abbiamo detto che molti sono gli enti diversi che cooperano in questo tipo di iniziativa. Quanta importanza, soprattutto in un momento in cui le distanze sono obbligate dall'emergenza coronavirus, che vi siano tante istanze diffuse nel territorio che operano per un obiettivo comune? Sì, è fondamentale perché comunque sia l'organizzazione e il supporto da varie parti ha consentito anche di affrontare al meglio anche quest'ultima emergenza che tuttora è in corso proprio perché avere varie, non un unico centro, cioè un unico centro, un coordinamento, però avere vari supporti sul territorio sono fondamentali per affrontare varie tipologie di emergenza che possono accadere sul nostro territorio. E' anche molto diverso perché come vedevamo appunto anche questa, l'emergenza sanitaria è un'ulteriore emergenza, però ci sono state anche appunto, spesso sono legate a fenomeni di tipo naturale.